Benvenuti a E tu cosa fai? Idee e storie di sostenibilità. Come di consueto apriamo con la rubrica del professor Stefano Zamagni che ci racconta una parola in un minuto. Alternanza scuola lavoro è un'espressione che è entrata di moda ed è entrata addirittura negli ordinamenti scolastici, ma è un'espressione sbagliata. Perché? Perché non si può mettere la scuola in alternanza al lavoro. Bisogna parlare invece di convergenza scuola-lavoro. Perché nel momento in cui noi poniamo la scuola in alternativa al lavoro veniamo a far credere, soprattutto ai più giovani, che la scuola è una cosa e il lavoro è un'altra. Questa dicotomia ha giocato un ruolo molto negativo nel sviluppo dei nostri giovani e più in generale del paese. Allora, parlare di convergenza vuol dire che la scuola deve diventare un luogo dove l'educazione non espunge il lavoro e il lavoro nelle imprese, nelle organizzazioni di diversa denominazione deve fare spazio all'attività di acculturazione. Cioè dire, bisogna recuperare l'idea dell'impresa olivettiana, il grande Adriano Olivetti quando diceva nella fabbrica si lavora e si producono le macchine da scrivere, ma si deve anche studiare. Ecco perché oggi la convergenza tra scuola e lavoro è diventato uno degli obiettivi primari di ogni progetto scolastico ed educativo e più in generale di crescita della civilizzazione del nostro paese. Il gruppo ERA ha presentato nei giorni scorsi il bilancio di sostenibilità 2018. Ecco che cosa è emerso. Reinventare la città è un tema importante, significativo, urgente al centro di un convegno che il gruppo ERA ha voluto per presentare il bilancio di sostenibilità, un bilancio con numeri molto significativi. La parola ai protagonisti. Questo consueto appuntamento ormai è il quinto o sesto anno di questo convegno nel quale non solo presentiamo brevemente i nostri risultati, ma soprattutto ragioniamo insieme degli ospiti di prestigio su quelli che sono i temi emergenti. Certamente uno dei temi e del tema che abbiamo scelto quest'anno è proprio come reinventare le città. Perché le città? Perché dalle città deve partire il primo movimento per trovare la risposta giusta per raggiungere quelle condizioni di equilibrio, quella condizione di sostenibilità necessaria da qui al 2030 e anche dopo. Perché le città? Le città, come sapete, ospitano più del 50% della popolazione europea ma occupano solo il 2% dello spazio. In compenso generano un 70% del PIL e consumano i tre quarti delle risorse e quindi quel centro pensante e operativo dal quale devono partire le nuove idee. E come si fa a costruire una città che sia per prima resiliente e sostenibile? Certamente lavorando su tre dimensioni, quella della sostenibilità attraverso lo sviluppo dell'economia circolare, di soluzioni circolari che coinvolgano sempre di più i cittadini. Dall'altro quello della smartness, la tecnologia è fondamentale in questo tipo di soluzioni, ma non da sola, come strumento per raggiungere gli altri obiettivi. E il terzo è quello della sicurezza, sicurezza intesa in senso lato, cioè la sicurezza e la salute dei cittadini. Quindi lavorare per creare quelle condizioni ambientali che favoriscano la salute. In questo senso noi siamo pienamente coinvolti con le nostre soluzioni, abbiamo cognato questo modello che si chiama Circular Smart City che ha proprio l'obiettivo di indirizzare queste tre S e lo fa come? Con soluzioni circolari come ad esempio la realizzazione dell'impianto di biomettano il cui prodotto viene poi utilizzato dai trasporti pubblici locali, dai taxi come viene qui a Bologna, ma anche attraverso il recupero degli oli vegetali esausti, anche attraverso soluzioni tecnologiche che sono qui presentate, che consentono alla città, a chi governa la città, di avere in tempo reale tutta una serie di informazioni che aiutano proprio a indirizzare quel tema della sicurezza, della qualità dell'aria, della qualità delle condizioni di vita all'interno della città. Una città intelligente è una città che deve sapere affrontare le sfide principali, una è la povertà che sta crescendo in tutte le città del mondo, il 30% della popolazione urbana vive in slam, baracche e favelas e l'altra è il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è un problema enorme, le città sono la prima causa del cambiamento climatico, producono il 70% della CO2 che genera il cambiamento climatico, le città sono le prime vittime del cambiamento climatico perché le inondazioni che stanno cominciando a colpire grandi città costiere lo dimostrano, le città devono essere le protagoniste di una grande svolta e uno dei modi migliori, più efficaci è il verde, le foreste, i boschi che assorbono il 40% di quella CO2 che dobbiamo portare in città, dobbiamo fare una enorme e straordinaria campagna per rendere più verdi le nostre città. La battaglia sul cambiamento climatico è una battaglia che non può che nascere da una grande spinta collettiva dal basso perché dobbiamo fare tutto, in tutti i campi della vita quotidiana, tutti insieme e subito, quindi non c'è nulla di più capace di creare un senso di comunità che la grande questione del cambiamento climatico, quindi da questo punto di vista è una questione profondamente democratica nella sua essenza e da questo punto di vista non servono tante scelte autoritarie, non serve escludersi, non serve lavorare cercando di isolarsi perché l'isolamento riduce la forza di questa grande battaglia. Una casa interamente fatta con materiali naturali non è utopia, ce lo spiegano Elisa e Luca dello studio L'Ancri. Una casa naturale sicuramente dà un comfort climatico all'interno della casa, quindi per gli abitanti che è estremamente più alto come comfort rispetto ad altre case, in particolare non c'è emissione di sostanze tossiche, non c'è emissione di vox che sono particelle volatili e quindi diciamo la casa è proprio salubre, fa bene alle persone che ci sono dentro, c'è anche un sistema naturale di regolazione dell'umidità perché utilizziamo materiali naturali che sono igronometrici. Quali sono questi materiali che utilizzate per questo tipo di case? Ad esempio qua abbiamo usato delle balline di paglia di grano, quindi è paglia di grano, altrimenti abbiamo la canapa, c'è la lana di pecora, in particolare la pecora sarda è una pecora che produce un materassino isolante strepitoso, il sughero. Con questi materiali davvero oltre a fare una cosa naturale fai anche una cosa che ha basso impatto energetico. La sostenibilità è per noi la nostra mission e anche l'economia circolare, cioè qui praticamente i materiali da costruzione non sono tanto costosi, la paglia è un materiale veramente povero, è uno scarto, è un rifiuto della produzione dei cereali, quindi il primo utilizzo della pianta è a fini alimentari, il secondo fine può essere quello edilizio. Come si concilia col problema magari del fatto che la paglia sia un materiale altamente infiammabile? Sono stati fatti test sia in Germania che in Francia comunque per l'infiammabilità dove vengono fatte proprio delle pareti con l'isolante in paglia, intonacate, caricate comunque con dei pesi perché va fatta sotto sforzo la prova e hanno superato benissimo i 90 minuti che sono i canoni classici per anche costruzioni pubbliche. Cosa significa raccontare la sostenibilità? Lo scopriamo con i protagonisti del forum Sostenibilità e Innovazione. Una delle buone notizie è che i racconti di sostenibilità pian pianino stanno aumentando, si stanno moltiplicando. Sì, meno male perché noi abbiamo una società in cui la politica soffia sul fuoco della paura e spesso il giornalismo li va dietro, un giornalismo dove le catastrofi, la corruzione, i terremoti, la mala sanità e il mal governo sono quotidianamente sulle prime pagine dei giornali, gli scontri politici tra maggioranza e posizione, gli scontri politici tra maggioranza e maggioranza, tra posizione e opposizione, finché anche noi giornalisti continueremo a raccontare come l'Italia, come un paese di catastrofi e cose che non funzionano, ci convinceremo che l'Italia sia il paese più brutto del mondo in cui vivere. L'Italia in realtà è il paese più meraviglioso del mondo in cui ci sono 5 milioni e mezzo di volontari che ogni giorno fanno della loro vita un copolavoro. Un'agenda 2030 non solo essenziale, interessante, ma anche appassionante, ecco perché? Appassionante perché attorno agli impegni di questa agenda ci stiamo giocando la possibilità di uno sviluppo sostenibile nel tempo e questo è un tema importante per le generazioni attuali ma soprattutto per le generazioni a cui dobbiamo lasciare in futuro un capitale umano, sociale, ambientale almeno uguale a quello che noi abbiamo ricevuto dai nostri predecessori. Oggi questo non sta avvenendo perché l'Italia come molti altri paesi e direi la generità dei paesi non è su un sentiero di sviluppo sostenibile, l'agenda ci stimola e spero in modo decisivo a migliorare le nostre prestazioni sotto questo aspetto. C'è alla studio il piano d'azione per la strategia di mitigazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, è stato fatto un piano energetico regionale in cui ci sono obiettivi molto ambiziosi di prestazione energetica, eccetera, quindi sicuramente la sfida è stata colta. Anche qui si tratta di fare passi avanti verso anche un cambio di passo da parte della cittadinanza, per esempio. Il cambiamento degli stili di vita è ineludibile, non basta solo una pianificazione, una programmazione pubblica ma tutto il sistema, tutta la società deve convergere verso questo obiettivo di sostenibilità. Per noi la sostenibilità è anche un driver competitivo e su questo veramente c'è un'adesione totale di tutta l'azienda anche perché i mercati ci chiedono di essere, i mercati finanziari oggi ha un'azienda quotata, chiedono performance ESG, cioè Environmental Social and Governance, positive, proattive e atte a ridurre gli impatti sul climate change ma anche ad aumentare impatti positivi sociali sul territorio. Oggi COP Alleanza 3.0 sta lavorando a un piano di sostenibilità che punta soprattutto sui temi ambientali che sono quelli che i nostri soci, i nostri portatori di interesse ci stanno chiedendo di affrontare con più forza. Ambiente significa innanzitutto plastica, per cui nei prodotti a marchio COP, in particolare per l'ortofrutta, stiamo riducendo via via le percentuali di plastica vergine per arrivare a non utilizzare più plastica vergine ma solo plastica riciclata. Oppure ci sono altri impegni che riguardano più in generale il rapporto con le comunità, quindi interveniamo per sviluppare di più le iniziative nel territorio con i nostri soci, con iniziative come YoC, che è un progetto che abbiamo realizzato insieme alle associazioni ambientaliste in 60 città e tante piccole iniziative che insieme contribuiscono a migliorare il nostro impatto sul pianeta. Grazie per averci seguito, questa era l'ultima puntata della stagione, vi aspettiamo con la nuova edizione a settembre e nel frattempo potete trovarci al sito www.etucosafai.it Grazie per averci seguito, questa era l'ultima puntata della stagione,